Bene, abbiamo anche quest'anno disposto i materiali per poter dare un aiuto per il pagamento dell'Atari per le persone che hanno ISEE tra 0 e 7500 euro come massimo. In due fasce, da 0 a 5000 potranno avere la riduzione del 100% del contributo da versare, mentre da 5.000 a 7.500 euro di ISEE, di reddito ISEE, potranno avere il 50% di riduzione di questa tassa, quindi un contributo che copre il 50%. È possibile fare domanda per i cittadini che mi hanno diritto dal 5 settembre al 28 ottobre ai servizi sociali e abbiamo messo a disposizione per la copertura di questi contributi 100.000 euro anche quest'anno. Consideriamo che quest'anno ci sarà anche qualche richiesta in più rispetto allo scorso anno che comunque è stata di ben 747 casi.